Una domenica diversa a Favria con una prima edizione, una novità assoluta con tanti appuntamenti che potranno interessare sicuramente sia i più piccoli che anche le loro famiglie. Una prima edizione per la festa del cane, che cosa avete organizzato per domani? Abbiamo organizzato questa nostra prima manifestazione dedicata ai nostri amici Quattro Zampe, organizziamo un piccolo concorso tra i virgolette fai da te e abbiamo una giuria che valuta sia meticci e cani di razza, sperando proprio di arrivare con un po' proprio di gente perché questa cosa qua piace a parecchi. Praticamente avremo una giuria che premia, abbiamo sei coppe, praticamente sei come il primo cucciolo, sia di meticcio che di razza, il cane maschio, il cane femmine e poi dobbiamo valutare anche il vecchietto della giornata, premieremo anche il vecchietto della giornata. In tutta la giornata faremo questa cosa qui, praticamente intorno alle 4 avremo i Terranova che faranno una piccola esibizione, una dimostrazione dentro al nostro laghetto come valutare questa cosa qui, come prendere al meglio il nostro laghetto perché praticamente vengono 20-25 Terranova e faranno salvata giunacchia in acqua e tutto qua. Nella giornata avremo i nostri commercianti per combattere un po' la crisi di questi ultimi tempi e gli abbiamo dato l'occasione di venire a esporre il loro materiale. Avremo i nostri commercianti di fabbrica con la loro bancarella e tutto qua. Quindi mentre magari i bambini si possono divertire stando a contatto con i loro amici a quattro zampe, i genitori magari possono guardare le bancarelle e scoprire qualche affare, chissà. E il ricavato del concorso è tutto a favore del canile di Caluso, tra l'altro? Sì, tutte le iscrizioni che avremo le daremo proprio tutto al nostro canile di Caluso e in più tutti i partecipanti daremo un piccolo pensierino. Quindi una bella giornata, l'appuntamento per domani a Favria qui presso il laghetto? Sì, il nostro laghetto qua in Diagonaudo. Un'altra cosa, domani esporranno anche la nostra scuola materna tutti i disegni che in questo periodo hanno fatto proprio da dedicare a questa giornata qua della festa del cane, hanno fatto dei disegni proprio sul cane e ci sarà una giuria per valutare un po'. Tutti avranno un pensierino, però è una cosa un po' carina da fare in quella giornata.